Il pallavolo Motta vince 3-2 contro Silvolley, siamo con Daniele Albergati, per molti è considerato il grande ritorno della stagione, quindi prima di tutto ti chiedo cosa hai provato a ritornare qua. Sicuramente è stato molto emozionante giocare in questo palazzetto con questo grande pubblico, ho provato un sacco di sensazioni positive e mi sono trovato davvero bene anche con i miei nuovi compagni. Ecco, a parte il primo set che è stato un po' così diciamo un trampolino di lancio, non siamo riusciti a giocare tranquilli, invece dal secondo set in poi abbiamo trovato un nostro gioco, abbiamo messo in atto gli insegnamenti del coach Bourbon e abbiamo giocato semplice ma in modo efficace. Sono stati dei set molto complessi, sempre punto a punto, ma siamo riusciti con la nostra cattivella a portarci a casa il set più importante, quindi a vincere ora questa partita. Ecco, la prima uscita è stata positiva per quanto riguarda il risultato perché avete portato a casa la vittoria, ma cosa pensi che manchi ancora a questa squadra? Sì, ecco, l'importante di questa partita è trovare un nostro gioco e giocare le cose semplici ma in modo efficace. Ecco, manca ancora qualche, un po' di esercizio sulla fase di copertura e sulla fase di difesa, ma ora arriviamo ancora un po' troppo disordinati, però penso che nel giro di una o due settimane con il lavoro che stiamo facendo riusciamo a mettere a posto queste cose. Dopo tre settimane di preparazione è il primo risultato utile, diciamo così, si è visto subito sul campo, i ragazzi hanno fatto una buona partita, ci sono alcune cose ancora da aggiustare, abbiamo giocato, diciamo così, in formazione ridotta perché abbiamo qualche ragazzo con qualche acciacco che abbiamo preferito lasciare riposo, però c'è stata una bella risposta da parte di tutta la squadra e ogni ragazzo, diciamo così, una volta chiamato in campo, ha dato buone risposte. Ecco, sicuramente c'è ancora del lavoro da fare, quali sono gli aspetti che le sono piaciuti, quelli che invece le sono piaciuti un po' meno? L'aspetto che mi è piaciuto è l'agonismo, su ogni palla abbiamo lottato, su ogni palla abbiamo fatto fatica, come si suol dire, da un punto di vista tecnico c'è molto, ma molto da lavorare e soprattutto invece la cosa grave è che su certe situazioni tattiche, sulla fase battuta difesa dobbiamo aggiustare parecchie cose.